andrà tutto bene puntata numero 60 oggi è mercoledì 8 aprile 2020 e sono le ore 16 e 20 16 e 20 in questo momento giochi inonorati e francesco forgione ben trovato francesco ben trovato a te a voi tutti francesco so che sei a palermo oggi sì 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 a palermo in isolamento a casamini solamente al senso che sto anche da solo da oltre 35 giorni io pensavo che tu stessi in giro comodamente quella città meravigliosa visitare i monumenti bellissimi che ci sono invece no siamo tutti invece no tutti a casa e credo che questo è molto importante ed è molto importante soprattutto in una città come palermo dove il numero dei contagi è stato basso e quindi se riusciamo a rispettare le regole che il governo ci ha indicato probabilmente ne usciremo bene francesco tu hai una carriera di tutto rispetto ce la vuoi raccontare in pochi minuti beh insomma giornalista dal dal 96 al 2006 deputato all'assemblea regionale siciliana capogruppo del mio partito rifondazione comunista poi dal 2006 al 2008 negli anni del governo pro di presidente della commissione parlamentare antimafia e autore di diversi libri sulle mafie e sull'andrangheta in particolare il più famoso mafia export che è tradotto in 22 paesi in tutto il mondo negli ultimi due anni ho diretto prima la cattedra falcone borsellino nell'alte scuola para la justicia di città del messico e nell'ultimo anno ho fatto e continua ad essere consulente dell'ufficio delle nazioni unite per la lotta alla droga e al delitto l'unodici del messico francesco ci sono molte preoccupazioni che ha espresso il papa ovviamente a proposito di questa crisi di questa emergenza sanitaria ma ce n'è una in particolare che se non sbaglio proprio in queste ultime ore sta facendo il giro sì io credo che la l'appello del papa ai mafiosi agli usurai convertitevi è molto importante questo papa ha dedicato molto del suo impegno della sua fatica alla lotta alla mafia e alla corruzione ha capito che si tratta di uno dei mali di questa nostra società e l'appello di oggi in questo momento particolare con la carica morale che ha il papa papa francesco per i credenti e per i non credenti e credo che sia particolarmente importante perché oggi non c'è dubbio che l'economia così a rischio messa a dura prova dal coronavirus e diventa un terreno per gli appetiti delle mafie e diventa un terreno per gli interessi criminali e delle grandi organizzazioni mafiose non solo di quelli italiani intendiamoci le mafie faranno e fanno quello che hanno sempre fatto questa crisi offre delle opportunità in più quindi servere un sovrappiù di vigilanza di attenzione una capacità investigativa soprattutto sul terreno dell'economia e della e della finanza perché le mafie sono tra i pochi soggetti in questo momento che dispongono di una grande liquidità finanziaria. Francesco qualche tempo fa esattamente nel 2016 è uscito un bel libro del generale Pasquale Angelo Santo credo attualmente al comando dei Ross si comandante generale dei Ross quindi della raggruppamento operativo speciale quindi uno dei reparti di eccellenza dei carabinieri con l'introduzione di Enzo Ciconte e la tua vostra passione. Beh sì quel libro parlava proprio dell'economia non solo parlava dell'andrangheta e aveva grande attenzione all'andrangheta perché oggi quando parliamo dell'andrangheta parliamo di una delle organizzazioni criminali più importanti più potenti quelle più compromesse nelle grande circuito del narcotraffico internazionale e quindi di una mafia che ha avuto una capacità di espansione come nessun'altra oggi sicuramente tra le mafie italiane e tra quelle e tra quelle mondiali. Del resto quando si aprono i giornali della Lombardia si trova in prima pagina l'andrangheta della Liguria si trova in prima pagina l'andrangheta di Roma quando si comincia a fare una mappatura dei patrimoni confiscati, ristoranti, pizzerie, alberghi e ritroviamo l'andrangheta. Cioè l'andrangheta è l'organizzazione che ha reinvestito la grande massa di capitali prodotta dal narcotraffico nell'economia legale. Quel libro metteva a fuoco proprio questo binomio che è tipico di un'organizzazione come l'andrangheta. La dimensione arcaica dei riti, i rituali di affiliazione e poi la capacità tutta moderna, contemporanea, di essere allo stesso tempo una grande holding finanziaria economico, finanziaria criminale capace di essere pervasiva di tutti i gangli dell'economia, della finanza e della società. È un libro molto interessante. Io l'ho citato per la verità perché lo presentammo con Enzo Ciconte a Radio Radicale dopo un po' di tempo dalla pubblicazione e mi ricordo che Enzo Ciconte fece riferimento ad alcuni personaggi che erano stati imprigionati molti anni prima e che ora stavano ricircolando nel nord Italia. Avranno scontato la loro pena, io su questo penso che noi dobbiamo essere rispettosi delle leggi, della giustizia e della Costituzione Repubblicana. Abbiamo tutti gli strumenti quando un criminale esce dal carcere per tenerlo sotto osservazione e controllarne i movimenti e controllarne gli affari. Io non appartengo a quella categoria che pensa che bisogna buttare le chiavi. Il tema del carcere è un tema delicato, come il tema delle lotte alle mafie. È molto più difficile inseguire i capitali criminali che non inseguire i mafiosi quando escono dal carcere. Quindi non mi pare che questo sia l'aspetto centrale. L'aspetto centrale oggi piuttosto è quello di seguire i capitali, vedere che movimenti fanno e soprattutto cercare di rompere quel legame tra la criminalità organizzata e quelle larghe aree di professionisti, di ceti professionali, agenti finanziari e società di intermediazione, notai, che rappresentano il vero tessuto connettivo poi delle mafie, senza i quali le mafie non potrebbero reinvestire i loro capitali e non potrebbero avere la forza che hanno accumulato nel corso degli anni. E in questo momento è proprio su questo e su questi settori sociali che io credo bisogna centrare l'attenzione. D'accordissimo con te per quanto riguarda il carcere che deve essere un luogo di riparazione, un luogo di rieducazione. Il riferimento a queste persone che uscite e continuavano a delinquere lo faccio soltanto per dirti che è un fenomeno che stenta stenta a spegnersi questo delle mafie. Cioè non riusciamo, non riusciamo in qualche modo ad arginarlo. E quando pure delle persone vengono tolte dal tessuto sociale quotidiano e messe nelle prigioni, comunque c'è sempre qualcun altro pronto a prenderne il posto. Appunto perché parliamo di mafie e non di semplici associazioni criminali. Cioè parliamo di strutture che vivono di propri codici, di una propria identità, di un proprio senso di appartenenza e di un collante forte che è il potere economico e i rapporti che questo potere economico determina in capacità di condizionamento della politica e delle istituzioni. Per questo quando noi abbiamo a che fare con mafiosi che escono dal carcere, quasi sempre, non abbiamo a che fare con persone che sono state rieducate ai valori della civile convivenza e al rispetto dei principi repubblicani. Ma parliamo di persone che mettono in conto nella propria vita un lungo periodo di carcere come fattore di crescita del proprio appeal criminale e della propria capacità di fascinazione sia sulla cosca che sugli affiliati. Certo, il tema del carcere non è solo il tema delle mafie. In questo momento io penso che anche il tema del carcere va affrontato con razionalità, va affrontato come ha indicato il procuratore generale Giovanni Salvi. Cioè il carcere in questo momento deve essere l'ultima razza e serve un atto di clemenza soprattutto per quei protagonisti di piccoli reati, reati minori, inferiori a tre anni che in questa emergenza, in questa contingenza nelle carceri possono vivere un rischio e rappresentare un rischio sia per gli altri detenuti sia anche per il personale della Polizia Penitenziaria. A proposito del fascino del mafioso sui ragazzi, come possiamo fare in modo che i ragazzi non lo subiscano più, che si spezzi questo vincolo? Altrimenti, come diceva un grande generale dei Carabinieri, noi staremo sempre a rincorrerli ma non li sconfiggeremo mai. Ma innanzitutto con l'educazione, con l'educazione, con la scuola, con la formazione civica è un noto che diceva serve un esercito di insegnanti. Siamo pronti, se non ora quando? Noi non possiamo rinviare questo tema, cioè della formazione delle coscienze sociali e civili, ma perché siano credibili le alternative alle mafie è necessario che sia credibile lo Stato, è necessario che siano credibili le politiche pubbliche, che il lavoro venga offerto attraverso politiche pubbliche con interventi dello Stato e non laddove ci sono aree di emarginazione, di marginalità sociale. L'unica istituzione che possa rappresentare una risposta a bisogni che vengono in evasi è quella delle organizzazioni criminali. Se noi non ci poniamo seriamente il tema di come prosciugare il brodo di cultura nel quale le mafie rigenerano il loro potere, il loro consenso e quindi la loro capacità di fascinazione, noi non ce lo faremo. Per questo io penso che l'antimafia oggi o vive di una dimensione sociale o non esiste. Un'antimafia che delega tutto alla repressione e all'azione giudiziaria penale è un'antimafia che non svolge il proprio compito. L'antimafia oggi è una buona sanità, è la tutela della salute, è la scuola nelle aree più depresse e marginali del Paese e del Mezzogiorno, sono i centri di aggregazioni per sottrarre alla strada giovani, bambini, ragazzi laddove le strade sono luoghi di formazione criminale e di esercizio della violenza. Quindi l'antimafia deve vivere di questo complesso di politiche sociali e di politiche pubbliche. Poi giustamente la magistratura, le forze di polizia, gli apparati investigativi devono fare la loro parte, ma noi nelle aule dei tribunali possiamo ottenere soprattutto e dobbiamo ottenere verità e giustizia per le vittime, ma la battaglia contro le mafie la vinciamo nella società, non nei tribunali. Francesco, questo lo sappiamo tutti bene, ma quando lo applicheremo? Sappiamo che a Palermo ci sono tante persone, tante famiglie che sono in difficoltà. A chi si rivolgeranno quelle famiglie? Beh, intanto diciamo una cosa, Palermo di oggi non è la Palermo degli anni Ottanta e non è la Palermo delle stragi. Quelle strade non sono più le strade dove si contavano i morti, ma è una città che è ritornata a vivere grazie a politiche sociali inclusive, grazie alla costruzione di una legalità non astratta e libresca, ma di una legalità fatta di riconoscimento di diritti sociali diffusi, di un nuovo tessuto economico. Certo, poi oggi, in questo momento, c'è il problema della povertà e se noi non rispondiamo al problema della povertà con politiche pubbliche di sostegno, anche con un reddito sociale più esteso di quanto non abbia rappresentato il reddito di cittadinanza fino ad oggi, noi non ce la faremo. Certo, la politica non può mandare messaggi ambigui. Se oggi penso alle dichiarazioni del presidente della regione Liguria, una regione fortemente penetrata dall'Andrangheta, pensiamo che alcuni comuni, Ventimiglia, praticamente alla frontiera con la Francia, è stato sciolto per inquinamento dell'Andrangheta e il suo comune e oggi abbiamo un presidente della regione che dice che in questa fase di crisi per il coronavirus le risposte immediati da dare sono la sospensione del codice antimafia, se sono vere le dichiarazioni che riportano alcune agenzie, la sospensione del codice antimafia, la sospensione del codice degli appalti, le sanatorie per l'abusivismo e per sbloccare e snellire i cantieri persino la sospensione della certificazione antimafia non andiamo proprio in quella direzione. L'8 gennaio del 2020, quindi qualche mese fa, in tv c'è stata un'intervista a Ottavio Sferlazza. Procuratore di Palmi? Procuratore di Palmi. Ottavio intervistato dice noi ci stiamo sostituendo, ma con rammarico, con rammarico, a colori quali dovrebbero educare. Esatto, e questo è il tema. Questo è un tema grave, gravissimo. Non è compito di uno Stato che assume la lotta alla mafia non come un tema da offrire ai governi per inserire nei propri programmi di amministrazione della cosa pubblica, ma la lotta alla mafia deve diventare la chiave interpretativa di una nuova visione dell'economia, delle politiche pubbliche, dell'intervento a favore delle imprese e della ricostruzione anche di un'etica, dei comportamenti individuali e collettivi che faccia di quella che Gramsci chiamava una riforma morale della società il terreno vero e il banco di prova vero per misurare le potenzialità criminogene delle leggi, delle politiche pubbliche, degli interventi sull'economia. Se noi facciamo questo allora la lotta alla mafia la facciamo fuoriuscire dalla dimensione penale e giudiziaria. E anche l'appello di Ottavio Sferlazza è implicito in quella frase. Noi ci stiamo sostituendo alle istituzioni potrà trovare una risposta. I giovani hanno degli esempi concreti per poter credere all'organizzazione statale? Beh, io credo di sì. Non siamo all'anno zero. Le mafie non sono quelle di una volta. Non hanno quel potere che aveva una volta. Vengono colpite ogni giorno. Ogni giorno lo Stato sequestra milioni di euro, confisca patrimoni. Ogni giorno lo Stato dimostra di non cedere al ricatto e al condizionamento mafioso. E questo riguarda le istituzioni. È la politica che deve operare delle rotture nette. È la politica che deve avere la capacità di non aspettare l'azione dei magistrati che gli ripuliscano le loro liste o che gli ripuliscano i loro rappresentanti perché deve avere e ha, se vuole, gli strumenti per operare una pulizia al proprio interno, all'interno dei partiti e all'interno delle istituzioni. E quindi io credo che i giovani possono avere esempi positivi del Renzo. Se io penso, ora ci avviciniamo al 9 maggio, all'anniversario della morte di Peppino Impastato, dell'omicidio di Peppino Impastato, ogni anno arrivano migliaia e migliaia di ragazzi a Cinisi a ricordare Peppino Impastato che fu l'esempio di un'antimafia eretica, ribelle, dissacrante. Oppure, se penso, anche noi quest'anno, il 21 di marzo, non lo abbiamo potuto, come dire, vivere come lo viviamo ogni anno, la giornata per la memoria per le vittime della mafia organizzata da Libera. Lo abbiamo fatto mettendoci tutti in rete e leggendo a migliaia e migliaia di persone quegli oltre mille nomi delle vittime innocenti della mafia. Però quella giornata è diventato ormai un appuntamento, partecipato da migliaia di giovani. Nelle scuole si tengono programmi di educazione alla legalità e di ricostruzione della memoria. Ecco, ma questo deve diventare un terreno concreto e quotidiano di impegno. Peppino Impastato è morto il 9 maggio del 1978, è stato ucciso il 9 maggio del 1978, quindi sono passati molti anni, molti, molti anni, tanti anni. Però tu poco fa mi hai detto che ogni giorno ci sono sequestri nei confronti dei mafiosi, quindi vuol dire che sono ancora molto attivi, cioè che questi 30 anni comunque non siamo stato, diciamo, chi doveva fare questo compito non è riuscito a svolgerlo al meglio, perché dopo 30 anni... Non sono d'accordo, possiamo pacificamente polemizzare. Se tu pensi che nel 1978 non esisteva il delitto di associazione mafiosa, quel famoso articolo 416 bis non esisteva il 1978. Arriva il 13 settembre dell'82 perché lo approva il Parlamento e ci è voluto tanto sangue, tanti sacrifici. Hanno dovuto uccidere Piola Torre, che era il deputato comunista, che lo pensò, quell'articolo, e poi il generale dalla Chiesa il 3 settembre dell'82 perché il Parlamento prendesse consapevolezza della necessità di avere uno strumento, il delitto di associazione mafiosa, che colpisce la partecipazione alle mafie in quanto tale. Poi c'è stato il maxiprocesso e poi dopo le stragi la repressione fortissima che praticamente ha incrinato il potere di Cosa Nostra. Oggi Cosa Nostra in Sicilia, a differenza dell'Andrangheta, sta vivendo una fase di forte crisi, anche di identità, ma anche di appilli. sono ritornati a fare le estorsioni di 300, di 400 euro, per dire il livello di difficoltà che vive una mafia come quella siciliana. La gran parte dei capi stanno morendo tutti in carcere e a 41 bissi. Molti di loro hanno deciso di collaborare con la giustizia. Quindi è vero che il tessuto economico è fortemente pregnato dai capitali criminali, ma questo è un problema che riguarda l'economia e che dobbiamo affrontare, perché è lì la forza economica che noi dobbiamo aggredire. Del resto, se tu pensi che solo dieci giorni fa hanno arrestato il rampollo di una famiglia mafiosa, un giovane molè a Gioia Tauri, gli hanno trovato in una fossa 530 kg di cocaina pura, che non so a quante decine di milioni di euro corrisponde, bisogna fare la moltiplicazione esatta, moltiplicare questi 500 per 4, perché producono 4 kg di cocaina tagliata e poi per 50 mila quanto viene venduto ogni chilo al mercato. E per fortuna che è in euro, perché se fosse lì non ci arriveremmo proprio. Esatto, saremmo a miliardi eccetera eccetera. Ecco, allora, tu pensa alla domanda e all'offerta della droga e della cocaina, ai mercati della cocaina, a quanta ricchezza producono e a quanta capacità economica di reinvestimento di questi capitali le mafiano. Quindi è vero che dobbiamo colpirli, però non è vero che siamo all'anno zero, non siamo all'anno di Peppino Impastato quando lui doveva denunciare con la sua radio, Radio Auto, a Dottano Badalamenti che controllava tutto il Consiglio Comunale di Cinesi, che lui descriveva come la tribù di Tano Seduto. Io spero comunque che ci si renda conto che questa è un'emergenza molto seria, cioè quella delle marghe, quella dell'innegalità. Mi fai dire un'altra cosa. Noi abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata citando il Papa, ma nel 78 era pensabile. Un Papa che dicesse ai mafiosi convertitevi non era pensabile. Per la prima volta un Papa, Giovanni XXIII, che arriva nella Valle dei Templi di Agrigento e dice inginocchiatevi e convertitevi. E poi c'è bisogno di Papa Francesco che arriva in Calabria dopo l'omicidio di un ragazzino e dice l'andrangheta è adorazione del male e i mafiosi non sono in comunione con Dio. Per decenni e decenni la Chiesa è stata l'altra faccia o una delle altre facce del consenso della mafia sul territorio e oggi se c'è una parte della Chiesa che continua ad essere connivente è anche vero che dal trono più alto, quello del Papa, a tanti parroci e a tanti uomini di Chiesa oggi c'è un impegno diretto nella lotta alla mafia e nella lotta alla corruzione. Noi dobbiamo vedere la lotta alla mafia come un processo dinamico, non lo faccio per fare iniezioni di ottimismo ma lo faccio perché sono convinto che noi assieme all'allarme dobbiamo dire anche ai giovani guardate che lo Stato, le forze migliori della società ci sono e sono impegnate e scegliere la mafia vuol dire fare una scelta suicida, suicida perché prima o poi in fondo a quel tunnel c'è la morte e suicida perché prima o poi lo Stato vincerà. Certo su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio, però dobbiamo impegnarci tutti, tutti nel fare in modo che i bambini crescano in ambienti sani dove possano avere l'educazione, possono accedere allo sport, possano fare tutto quello che è necessario per una vita serena, tranquilla. Guarda io su questo sono assolutamente... Però in concreto perché altrimenti fra 30 anni saremo a dire le stesse cose. No ma io sono d'accordo con te però ti ripeto questi 30 anni non sono passati in vano, questi 40 anni non sono passati in vano. Oggi il modello di contrasto al crimine organizzato soprattutto dal punto di vista penale, investigativo, giudiziario, la strumentazione di cui dispone lo Stato italiano è considerato un modello in tutto il mondo di riferimento per chiunque voglia condurre una lotta antimafia forte e coerente. In nessun paese del mondo esiste il delitto di associazione mafiosa e fatichiamo a farlo comprendere anche all'Unione Europea che non è ovviamente esente da fenomeni criminali di tipo mafioso. In nessun paese al mondo esiste per esempio la possibilità di sciogliere i consigli comunali per inquinamento mafioso e di intervenire direttamente sulla politica. In nessun paese al mondo esiste il reato, il 416 terre, cioè lo scambio elettorale politico mafioso, cioè noi disponiamo di una strumentazione straordinaria, certo migliorabile. In nessun paese al mondo il sequestro dei beni dei mafiosi o dei narcotrafficanti è una misura di prevenzione come in Italia, scissa dal procedimento penale che riguarda il proprietario di quei beni. Da noi esiste. Poi tu mi dirai ma bisogna accelerare l'iter della gestione di questi beni e della destinazione sociale. Perfezionarla in modo che diventi effettivo il destino sociale dei beni, cioè la percezione della gente che attraverso quella legge noi restituiamo alla società quello che alla società, alle mafie, hanno tolto con la sopraffazione e con la violenza. Però questi strumenti ce li abbiamo. Quindi abbiamo tutte le condizioni perché tra 30 anni, e noi tra 30 anni nonostante la nostra non giovane età ci rivedremo qui in televisione per fare un bilancio, tra 30 anni noi potremmo dire quello che chi ha vissuto prima di noi, magari prima di noi si è sacrificato 30 anni fa, ripeto più la torre che penso quella legge non poteva neanche immaginare. Sì perché purtroppo c'è un po' di scoraggiamento. Mi ricordo Enzo Ciconte che parlando con lui fece una battuta del tipo che se vogliamo sconfiggere le mafie dobbiamo eliminare tutte le caserme dei carabinieri. Perché? Perché in qualche intercettazione qualche mafioso diceva che dovevano radicarsi così bene come le caserme dei carabinieri in tutto il territorio nazionale. Per fortuna le caserme dei carabinieri sono un presidio territoriale. Esatto. Era una battuta per dire quanto anche le mafie vogliono mettere le locali in tutti i comuni. Il problema Giacchino è che lo Stato in troppe parti del territorio di questo nostro paese si presenta solo attraverso la caserma dei carabinieri. Invece si deve presentare attraverso le scuole, attraverso presidi sanitari, attraverso centri di aggregazione sociale, attraverso politiche pubbliche che intervengano soprattutto sul tema del lavoro e dell'occupazione, attraverso una buona gestione dei beni confiscati. Finché lo Stato si presenta solo attraverso la repressione, noi non la vinceremo la battaglia antimafia. Però se io penso per esempio al crollo della prima vela a Scampia e a quello che simbolicamente ha rappresentato nella storia del degrado di quell'ambiente, di quel territorio, quella vela e al fatto che oggi venga distrutta e lì c'è un problema di riuso e di recupero di quel territorio, penso che tanta strada è stata fatta, tantissima ce n'è da fare, ma tanta è stata fatta. E allora questa è l'antimafia che noi dovremmo fare. Poi un appello lo farei anche agli industriali, al mondo economico. Beh, devono smetterla di far finta di non vedere, di non sentire il puzzo dei soldi quando quei soldi arrivano dalla criminalità organizzata, di denunciare come fece Libero Grassi con coraggio il proprio estorsore, di non dare i subappalti quando vincono i grandi appalti con le cordate alle imprese mafiosi col territorio. Quando io dico ricostruzione di un'etica pubblica penso all'assunzione di una responsabilità che è collettiva ma che è anche individuale dei diversi attori sociali. Beh, se facciamo questa l'antimafia continua ad avere un senso. Allora Francesco, siamo proprio al termine, quindi consideriamola un'emergenza come l'emergenza sanitaria, quindi costruiamo scuole, costruiamo parchi. I parchi non sono belli nelle nostre città, i bambini non ci giocano bene. Costruiamo parchi, costruiamo piscine, diamo la possibilità ai bambini di studiare, di fare tante cose belle, di giocare, di allenarsi, restituiamo gli spazi che non hanno. Su questo sono d'accordo, se poi quando li costruiamo evitiamo di dare gli appalti anche ai mafiosi, facciamo anche la quadratura del cerchio. Sì, sono d'accordo. Io penso che abbiamo bisogno di buone politiche pubbliche e con buone politiche pubbliche noi sottraiamo alle mafie il terreno del loro consenso e della loro fascinazione. Se noi dimostriamo che il noi vince sull'io, che i valori della solidarietà, dell'accoglienza, dell'inclusione sono valori che legittimano l'esistenza e l'impegno di una vita intera rispetto a quelli dell'arricchimento facile, del superio, della forza, del macismo, della cultura patriarcale, beh avremmo fatto grande parte di questo lavoro e questo lavoro va fatto fuori dalle aule dei tribunali. In fondo la lotta alla mafia è questa, è l'alternativa tra la violenza, la sopravvazione e la democrazia e noi stiamo da un'altra parte. E partiamo dai bambini, partiamo dai bambini, partiamo dalle scuole che siano accoglienti, partiamo da un bambino. Che non è banale quello che dico, non è banale. Non è banale e questo mi fa dire un'altra cosa, partiamo dalle scuole pubbliche, come lo stiamo vedendo in queste ore drammatiche, quando i bisogni sociali diventano di tutti, è la sanità pubblica che ci difende da una pandemia come quella che stiamo vivendo. Nelle aree degradate non ci vanno le scuole private, ci stanno le scuole pubbliche e le scuole pubbliche sono spesso l'unico luogo, l'unico spazio e l'unico tempo nel quale i bambini sono sottratti alle strade. Quando parlo di politiche pubbliche parlo proprio di questo, di guardare agli interessi generali e gli interessi generali sono soprattutto gli interessi degli ultimi, di chi meno ha e di chi meno può. Quindi investiamo moltissimo nell'istruzione, moltissimo. Grazie Francesco, grazie a voi. Grazie a voi per questo spazio e questa opportunità. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.